Come stai, Piero? Meglio che in gabbia, boss. Devo ringraziare te per la mia scarcerazione anticipata. Diciamo che ho concepuito la riapertura dell'andagine. E hai intenzione da fare adesso? Voglio trovare quel bastardo che mi ha mandato dentro. E voglio assicurarmi che non parli mai più. Vecchio schifoso, nessuno può uccidermi. Mi hai sentito, nessuno!